Ecco i nostri eroi di ritorno dalla conquista di Ergo Spalma. Obelix, guarda chi arriva, il pescivendolo del nostro villaggio. Ciao, vieni con noi, torneremo al villaggio insieme. Eccoli, tra poco Ergo Spalma sarà nostro. Fermi, consegnateci tutto. Vi possiamo consegnare prima il pesce? Certo, non ne rotolo, ma sbrigati. Avete sentito, ragazzi? Ehi, barbaroni, siete pronti a ricevere i pescioloni? Sì, sì. Eccoli. Buon appetito. Sono pazzi questi barbari. E finalmente i nostri eroi raggiungono il loro villaggio. E così siete riusciti a portarci Ergo Spalma. Mamma, quando vuoi darvi una crema spalmabile, scegli Ergo Spalma. La merenda al buon cioccolato e più latte dalla plasma. Così lo nutri con fiducia. E ci sono sempre le monete del mio tesoro. Così lo nutrizzi. Il mio Eli d'alene. Himmari! Così lo piere D'alene. Per soltare lo pazza. Pre? pressi? Grazie a tutti.